Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della mobilità. Da lunedì e sino all'8 luglio sulle linee 2, 3, 5, 14 e 19 i tram saranno sostituiti con i bus. Una modifica per sei giorni sull'intera rete tramviaria dovuta ai lavori di Atac sui binari sotto il cavalcavia ferroviario di via Prenestina all'altezza di piazzale Labicano. Le altre notizie venerdì 7 luglio possibili disagi anche a Roma per lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico indetto a livello nazionale da Faisa con file. Consuete fasce di garanzia al mattino sino alle 8 e 30 e poi nel pomeriggio dalle 17 alle 20. Ancora per oggi e domani potenziata la linea bus 118 in occasione di un festival nel parco dell'Apia Antica. La linea effettuerà corse aggiuntive dalle 21 e 30 prolungando il servizio sino all'una di notte, ora dell'ultima partenza dalla capolinea di Villa dei Quintini. Per il momento è tutto, un saluto dal Tg della mobilità.